Musica Wow, andiamo ad affrontare la Gran Bretagna in testa? Oh mio Dio! E ciao a tutti a tutti di 69 Pune e benvenuti in questo nuovo votamento della carriera con Will Smith in quel di Gran Bretagna andiamo precisamente a Silverstone dove sono stato per il secondo e l'ultimo in sport della Formula 1 aspettando ovviamente il terzo e arriviamo sì da vincitori al momento sì, abbiamo vinto in Austria ma siamo anche i primi in classifica però abbiamo soltanto 9 punti di vantaggio sul pilota che però gioca, giocherà in casa qui in Inghilterra Luigino, prosciutto e tonno il buon Em, il Ton caricamento, vediamo un po' che cosa ci dicono Carl e magari Em Uh, ottimo! Allora, i pezzi sono questi usura gomme e freni completati, quindi facciano parte del telaio se non vado... se non vado errato Attenzione alla pioggia, mamma mia ragazzi, che pioggia! Oh mamma mia, è intensa, è intensa quindi la gara sarà sicuramente bagnata partirà sicuramente con il bagnato Attenzione, attenzione! Abbiamo superato Mercedes e Ferrari Ferrari è la quinta, quinta squadra Oh mamma mia, oh mamma mamma mia, ma non è vero, dai non è possibile Non è possibile, non è, non è, non è davvero possibile Nuove componenti installate, eccole qui In teoria, quindi, ora abbiamo quattro componenti da poter utilizzare Ognuno di queste costa 1280 Tutte risorse, quindi sono un pochino tanti Ma attenzione perché vedo che siamo primi Come telaio siamo i migliori E abbiamo sia motore che telaio Perché il motore non l'abbiamo tanto modificato Ma è già ottimo, prestante al massimo Wow, ragazzi, alla buona genè Alla genè, ragazzi, wow Incredibile, che sorpasso Che cosa andremo a fare Intanto voglio farvi vedere soltanto una cosa Che ho notato dopo il Gran Premio dell'Austria Hanno vinto almeno un Gran Premio Ricciardo, Bottas, Verstappen ed Hamilton Ovviamente insieme a Will Che è stato quello che ha vinto il più Gran Premio di tutti Ovvero tre La Ferrari non ha vinto un Gran Premio Massimo risultato 4 volte a secondi Quindi Ci fa un po' capire quanto sono in crisi di identità Quindi Mamma mia, poverini Servirà un pilota a loro in futuro Ma non perdiamoci più in chiacchiere Mi raccomando, su quello mi piace Spero di arrivare a, non lo so 1000 mi piace 800 miliardi di mi piace 2 miliardi di mi piace Ma basta Ci vediamo nelle cu La Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, wow Carlo, wow, 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 direi che è andata bene. Sì, oh ancora, 29 stavolta, sono i millesimi che ci separano, non due decimi come in Austria, 29 millesimi. Ok ragazzi, d'ora in poi basta aggiornamenti, basta, basta aggiornamenti. Il perché è molto semplice. Ok, abbiamo la vettura migliore dell'otto, no, non è la migliore dell'otto, è la terza vettura più performante. Ma credo che siamo ai livelli, se non addirittura un pelo oltre, tipo roba di un decimo, un decimo e mezzo o due, oltre le prestazioni pari quando si va online, dunque mi pare davvero troppo assurdo. Io non voglio giocare a un videogioco arcade. Questo è già un sim arcade, perché presenta delle cose simulative, che non per forza devono essere fisiche o altro, ma anche l'hairs è una cosa simulativa. E andando avanti nell'aggiornamento, il problema è che dopo diventa troppo arcade, ovvero troppo facile da guidare, l'aspetto della guida. Quindi credo proprio che mi fermerò qui. Non voglio davvero più aggiornare nulla, mi dispiace tanto ragazzi, scusatemi, ma spero che voi capite. Io faccio questi video anche per allenarmi, ma se mi alleno con una macchina che va 8 decimi, un secondo più forte delle prestazioni pari, non è il mio tipo di allenamento. Io anzi mi alleno sempre, sempre, sempre in una maniera, ovvero con le vetture che hanno un livello pessimo. Comunque sia, ci aspetta una gara bagnata, dunque tutto quello che abbiamo fatto non serve e vi dirò di più. Ho anche utilizzato un setup un po' più bagnato. Siamo tornati dove è cominciato tutto. Il primo Gran Premio del Campionato del Mondo si tenne qui a Silverstone nel 1950, quando Giuseppe Farina salì sul gradino più alto di un podio tutto Alfa Romeo. Quel giorno ottenne 9 punti ridati per quello che diventò il primo titolo. Il numero totale di punte a fine stagione? Solo 30. Come sono cambiati i tempi? Vediamo chi riuscirà oggi a raggiungere il gradino più alto del podio moderno. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri diamo un'occhiata alla situazione. Mr. Monaco si posiziona in pole position e in seconda posizione c'è Charles Leclerc. E ora vediamo il resto della griglia. E' quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista! Dobbiamo ancora lavorare sul percorso fino alla prima curva. Cerchiamo di conservare il vantaggio e proteggiamo l'interno. Se vogliamo uscire dalla curva in prima posizione, la chiave è tutta nella difesa. Beh, l'avete sentito? Alex ha detto tutto, quindi ragazzi io posso solo partire. Seconda pole position consecutiva. Vediamo di partire bene. Attenzione! Via! Partenza fantastica! Solo che lasciamo spazio all'Eclerc che prova a infilarsi in curva 1 ma non ce la fa. Quindi siamo al momento già in prima posizione. Non credo che però riusciremo ad andare via perché non abbiamo... Non abbiamo un granché di performance in queste condizioni. L'IA va meno forte, sbagliato. In gara, ma in qualifica vola. Però non so davvero se riusciamo ad avere una... Una gara tranquilla. Certo che potrò rimanere con alta per quanto riguarda la regolazione dell'Ers. E ora vediamo, paura di poter far da tappo. Ok, è un buon inizio. Continua così. Attenzione perché qui abbiamo preso il largo. Ma occhio, occhio davvero. Tanto il carburante non scende ma rimane stabile. O addirittura sale ogni volta che smetto di accelerare. È ben dietro, è ben dietro l'Eclerc. Lo vedo. Piano, piano. Mi ricorda gli sport di Formula 1. Il primo sport della Formula 1, questo. Questo è un gran premio. Queste condizioni. Occhio perché l'Eclerc è vicinissimo, è fortissimo, è velocissimo. Al momento restiamo in prima posizione. Per un gran premio che mi ha già rovinato l'Eclerc perché non potrei mai fare Gran Shelem nel caso. Perché credo che sia passato per un millisecondo in avanti. Curva 1. Dopo verificheremo. Primo giro passa con 1.46. 6.6.4. 4 è il numero della morte in Giappone. 6.6 si sa. 46. Insomma è un numero molto carino, molto simpatico. Meno male che c'è uno di numero 1. Va, meno male. È difficile vedere altri numeri in Formula 1 all'inizio. Sono l'1. A meno che non siamo a Spa e piove. Ok. A meno che non ci siamo a Setticar. Ok. Ragazzi. Stiamo andando bene. Stiamo andando molto bene. Mentre il secondo guadagnato su Leclerc. Adesso però navigliamo in queste curve lenti dove fatichiamo un po'. Arriviamo nel vecchio primo rettilineo. Unico rettilineo. No, non unico ma vecchio rettilineo. Ci sono ancora le griglie. C'è ancora la griglia. Siamo arrivati un penino lunghi e abbiamo perso gran parte del vantaggio che avevamo accumulato in questo giro. In teoria loro non rientrano i box, quindi non dovrei rientrare nemmeno io. Però devo chiedere ad Alex cosa faranno. Ripeti, c'è un'interferenza. Capito, d'accordo. Ma... Ragazzi, io che cazzo non l'ho fatto. L'ho mutato, no? Poverino. Non ho capito, ripeti. Ma c'è un frastuono tale da non farmi parlare. Previsioni del tempo. Entro dieci minuti dovrebbe rimanere solo una pioggia leggera. Le gomme intermedie e quelle da bagnato al momento garantirebbero un ritmo simile. Addirittura... Uh, le clerche intanto. L'esterno. Quindi ci sono condizioni quasi da pioggia battente. In effetti ho visto le tre gocce. Con tre gocce in teoria. Adesso si doveva partire con le gomme da bagnato. Molto particolare questa cosa. Molto particolare. Intanto restiamo in prima posizione. Senza spacolare, senza buttare fuori nessuno. In modo ovviamente onesto. Hanno fatto ovviamente un giro migliore del mio. Perché come al solito sbagliamo. L'ingresso ci porta al rettilineo. Come a Maggot e Beckets. Sbagliamo sempre l'uscita dalle curve veloci. Che distinguono questo circuito. Che purtroppo viene copiato. A destra manca. Ma quando è una cosa bella, è bella. Odio perché le clerche è sempre dietro. Ripacendo avremo altri bei punti. Non hanno nemmeno di RS per tentare l'attacco. Per tantomeno pensierino un pochino di più. Attenzione qui. Intanto è una rossa. Vedo una rossa rallentare. Non credo. Non credo. Non posso crederci. Hanno bisogno di un pilota ragazzi. Hanno bisogno di un pilota che possa tirare su la rossa. Kimi Rakkonen è fuori dal Gran Premio. Piove sul bagnato. Piove sul bagnato. 41,759. Abbiamo preso tutto nell'ultimo settore. Prendevamo sopra di quattro decimi al T1. Adesso abbiamo fatto benissimo però. Io parlo, 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 parlo. Intanto mi ricordo che la difficoltà è 110. Ricordo che la gomma nostra non dovrebbe reggere. Le gomme non dovrebbero reggere. Però in teoria tutta l'upgrade che abbiamo fatto Siete un po', 9,10 mi guadagnate solo nel primo settore. Per tutta l'upgrade che abbiamo fatto abbiamo un RS che non si scarica praticamente mai e anche la possibilità, non so, di avere un'usura minore. Anche se sull'asciutto l'usura è un po' sempre la stessa. Purtroppo siamo andati troppo lenti in questo secondo settore. Abbiamo fatto una curva a 20 all'ora, naturalmente. C'è il buon Charles che sta volando, nel T2 vola, nel T2 vola letteralmente. Avvertimento, limite della fiesta superato. Occhio, non esageriamo queste curve. 48, 44, wow, fantastico. Fantastico, Daniel. 43 Valtteri Bottas, niente ragazzi, ci sono, loro ci sono. Ci sono, ci sono. Allora, è importante sapere una cosa, ovvero che in questo momento noi con Micela Hot Lap non consumiamo una ceppa, come vedete. Ma il problema è che abbiamo fatica nelle accelerazioni. Facciamo fatica nelle accelerazioni perché c'è troppa di potenza. Ora vedo se riesco a migliare il T2. Mettiamo anche l'Hertz a sorpasso. Tanto ne abbiamo. Il problema è che la barra bianca comunque si esaurisce se metto sempre solo sorpasso. Non è un gran premio facile, è un errore per 2-6 posizioni. Poi mi direte, vabbè, basterà non farli, no, Amos? Eh, eh, eh. Sì. Eh, è vero. Basterebbe non farli. Teoria che facciamo bene il T3 facciamo un 45. Questa bella curva qui la faccio sempre benissimo, eh. Vai chi mi si può comprare. Niente, 48. Dai, va bene. Siamo buttati in curva 1. Non ho frenato. Ho detto, ok, io decelero ma la macchina ci deve entrare. È centrata. Sesto giro di 13. Gran premio ancora non è finito. Lungo. Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Siamo a due avvertimenti. Ora le cose si fanno troppo interessanti. mantiene il video molto attivo in questo momento questo mio secondo avvertimento che non ci voleva assolutamente però, mannaggia. Dovevo cercare di spingere adesso un pochino di più a occhio a queste curve che potrebbero inserirci tantissimo. due decimi sotto. Ecco chi dobbiamo affrontare oggi Ricciardo e Leclerc. Ok, io vorrei sapere dove è Hamilton dato che è il primo rivale ma anche Ricciardo non scherza. vedo che c'è una Mercedes dietro Ricciardo però un po' in difficoltà. 45 ottimo mezzo secondo su Leclerc. Niente non è niente Leclerc rimane lì tranquillo. Io mi sto ammazzando quello lì rimane su 40 e 5 come me e non lo vedo sbandare non lo vedo sgondolare niente Qua guadagniamo tanto eh in uscita delle curve guadagniamo abbastanza 8 decimi siamo a 8 decimi di vantaggio come vedete sto esagerando un po' non si sa mai che becco una penalità solo uno un avvertimento se no ho fregato quindi sto spingendo sto andando un po' contro quello che dovrei fare ma se vado forte magari evito di tagliare di solito è così funziona quando quando hai un altro ritmo quando sai di poter fare un pochino meglio 30 decimi sotto o sbagli completamente oppure riesci a fare bei tempi quando invece ti distrai e cerchi di gestire tac guardi un attimo dietro fai la curva e sei in penalità dai buona stavolta 42 8 decimi 13 decimi guadagnati qua avevo pensato troppo interna ottavo giro di 13 leclerc sembra non essere troppo un problema in questo momento ma ehi sempre leclerc occhio infatti in questo giro si è avvicinato sicuramente ha fatto un T1 pessimo due indecisioni che potevano costarci un avvertimento sto spingendo come non so cosa dovremmo essere 8 decimi facciamo cavolate qua anche perché le gomme iniziano anche ad andarsene infatti lo sento sento che sento che le gomme stanno lentamente andando buf ma la mia no 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 stiamo andando non un bel giro questo non un bel giro 48 4 decimi Hamilton 42 quindi Hamilton è il pilota dietro Ricciardo assodato in questo momento guadagneremo altri 13 punti andremo a 22 punti di vantaggio però c'è Ricciardo davanti e rosiccherebbe qualche punto Hamilton magari sarebbe lui il primo rivale Hamilton sta facendo un miracolo con la macchina che ha perché comunque è la quarta forza noi una volta che vediamo che siamo davvero più lenti diciamo che possiamo ancora effettare una upgrade questo vorrebbe dire comunque essere più veloci ancora più veloci delle posizioni pari perché comunque noi resteremo così come il potenziale che è molto alto le altre andranno avanti se ci supereranno e in questo momento si dovremmo utilizzeremo qualche componente nuova e andremo ancora più forte nono giro di 13 tutto tacea dietro sono a 12.000 al mio best mezzo secondo di vantaggio su Charles Leclerc abbastanza bene questa curva lunghino no no nemmeno troppo dai a little bit 40 eh record 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 di tutti la pioggia però è diminuita sì 39 il mio rivale ha fatto 39 ragazzi non va bene questo vuol dire solo una cosa dobbiamo spingere non mi interessa vuol dire che sta sta finendo di piovere come vedo anche da questo 13 mi sotto vuol dire che i tempi scenderanno tanto ne avremo un degrado maggiore come dovrebbero avere anche quelli dell'IA ma l'IA vi ripeto non ha ve lo ricordo perché non ho ancora detto in questo video non ha degrado delle gomme non chiedetemi perché infatti è un po' taffacche ma è così mi puoi toccare il giro veloce quando sono in testa non lo puoi toccare 70 decimi sotto sì stiamo volando adesso ma non noi tutti stanno volando dietro anche ciao ragazzi ciao 39 2 ma dietro faranno meglio 39 1 semester fett il ritmo si è alzato siamo venuti un tiro su 13 mancano 3 giri il client era davvero vicino il giro prima per non aver migliorato il tempo che ho fatto secondo me siamo proprio lì siamo come i tempi ottimo t1 vai dai 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 prendiamo le gomme insomma pita avete pita di me gomme per favore mamma 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 a due passi dal taglio due centimetri tutto perché mi sono incapponito incapponito per il giro record non mi interessa lo voglio poi vedetela così se dovessi perdere perché taglio tutorial video nuovo su youtube un video tutorial come perdere un gran premio perché vuoi fare il giro veloce 38 e 6 via ok non so dove ho trovato questi decimi me li ho trovati e al momento nessuno mi ha ribattuto stiamo volando in questo momento volando ho trovato un altro decimo una due sulle clerche di cattiveria proprio voglio vincere adesso ora basta mi sono ottenuto e vedi voglio vincere di cattiveria occhio però ok passiamo in denne questa zona vedete che comunque sta abbastanza lontano dalle insidie dai cordoli ancora stesso identico di stacco e vantaggio rispetto a come mi metti uno voglio dire che questo qui è il limite wow 38 e 3 ottimo 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 andiamo 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 abbiamo ancora pass in denne nell'ultimo giro anche dal numero 2 siamo all'ultimo giro potrebbe essere una giornata storica davvero stavolta davvero molto storica c'è uno uguale mamma mia ma che è? davanti al pubblico di Wiss Hamilton Wiss Smith sta volando sta facendo vedere i sorciverbi ancora 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 non intende fermarsi anzi mi sta chiedendo Will via radio ma perché dobbiamo fermarci adesso undecimo gomme gomme ridotte all'osso strano che sono queste gomme io ancora riesco ad andare così forte ci siamo? o è solo fantasia? o è solo fantasia? mi sono cagato sotto tantissimo wow doppietta ragazzi doppietta abbiamo fatto prima e terzo sull'asciutto prima e secondo sul bagnato credo che niente ormai ci può fermare niente ci può fermare Bottas festeggia perché ha fatto ottavo complimenti Bottas meritatissimo giustissimo festeggiare con una Mercedes sotto l'opposto perché effettivamente è essendo la quarta forza fai settimana lontano grande Will Smith ragazzi Will Smith Leclerc Ricciardo tre piloti che sono impossibili da odiare impossibili direi che è andata molto bene molto 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 bene Mr. Monaco è 155 22 punti su Hamilton 29 su Ricciardo abbiamo più di un gran primo di vantaggio su Ricciardo 22 punti su Hamilton molto bene invece qui wow siamo a 15 punti ragazzi siamo a 15 punti ragazzi dalla Mercedes abbiamo fatto non so quanti punti abbiamo distaccato la terrae di 62 di 72 punti in praticamente due gare tre gare wow bene 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 intanto Leclerc passa anche Sainz e adesso va a caccia incredibile di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen ottimo lavoro oggi come pensi sia andata ma descrittamente i bini scusami perché non lo è a volte può essere duro per la macchina ma questo porta tutto dire che non va bene i tifosi in cui sono davvero fantastici non sono Lewis Hamilton no ed è bellissimo vedere ripagato tutto il lavoro fatto con l'aerodinamica yes continuiamo a alimentare è stata una gran giornata eh si ragazzi mi dispiace ma è andato ma eh tutti possono sbagliare dai andiamo così oh ecco quante domande vediamo un po' dai ragazzi andiamo andiamo a essere spettacolari dai andiamo a essere spettacolari via 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 così via così bene dai è andata molto bene direi davvero molto bene egregiamente e ora vediamo cosa ci aspetta nel prossimo gran premio però ovviamente ora vediamo Emma se è contenta se dice che abbiamo fatto il compitino abbiamo portato a casa il compitino oppure no insomma intanto direi che direi che siamo in vantaggio con tutte e due 20 a 10 e 13 a 5 direi che siamo in tremendo vantaggio qua dovremmo avere anche 400 punti della della come si chiama della del bonus che ci da se noi facciamo i bravi no non ci danno niente ah ecco completa 4 programmi di prova infatti eh se c'è qualcuno che deve ancora capire bene il nostro potenziale è la Red Bull sono tutti volenterosi di avermi e poi c'è la Red Bull va bene perfetto è proprio il tipo di risultato che volevo continua così stiamo ricevendo inviti a nuovi eventi storici potrai scegliere se particolare no 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 mi dispiace Emma mi dispiace io direi ragazzi di lasciarci qui mi raccomando vi spero di mettere un bel mi piace prossimo appuntamento abbiamo Germania ok non è bella questa curva non è assolutamente bella vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.